Buongiorno con di prima mattina l'appuntamento con la rassegna stampa di Super J, oggi venerdì 20 ottobre 2023, prima di andare ad analizzare i quotidiani locali diamo uno sguardo a quelle che sono le prime pagine dei quotidiani nazionali parlando di quello che è il tema ricorrente ovvero il discorso di Biden alla nazione che si è cessato questa notte alle ore 20 locali negli Stati Uniti, allora andiamo a vedere proprio insieme cosa ci dicono le prime pagine dei quotidiani nazionali a partire dal Corriere della Sera che apre con la guerra, il tema che ricorre sui vari giornali nazionali, Gaza il piano per gli aiuti, Israele e i soldati presto dentro la striscia, sicurezza, l'Italia aumenta controlli ed espulsioni, è ancora patto di stabilità, regole e bilanci, l'ambizione che ora manca all'Europa, questo ci arriva ovviamente dal Corriere della Sera, la cautela di Biden e appunto il discorso che si è tenuto nella notte in Italia, l'orario serale invece negli Stati Uniti. Andiamo a vedere invece la prima pagina della Repubblica, anche qui si apre con venti di guerra, migranti, Germania e Austria archiviano Schengen, si è rotto e poi sanzioni fiscali più leggere, ennesimo aiuto agli evasori e tutte le notizie che ci arrivano ancora in merito alla guerra. Andiamo a vedere la prima pagina della stampa, lo scudo di Biden con l'immagine appunto la fotonotizia che accompagna questo titolo, quei non nati nelle incubatrici senza elettricità e appunto l'approfondimento legato all'emergenza in Medio Oriente dagli USA, 100 miliardi di aiuti per armamenti a Israele, Ucraina e Taiwan. Netanyahu ai soldati siete leoni, questo è il commento del premier israeliano. E ci spostiamo adesso invece nella prima pagina della verità, già espulsi 700 migranti pericolosi e così apre il quotidiano che poi dedica la fotonotizia invece al caso calcio scommesse, parla l'uomo chiave, zagnolo e il calcio sporco nella chiavetta a testamento i segreti delle scommesse. Questi principali quotidiani nazionali, adesso ci spostiamo invece nella cronaca che riguarda l'Abruzzo, partire dalla prima pagina del quotidiano Il Messaggero, che apre invece in questo caso con una notizia che riguarda l'Aquila e l'emergenza parcheggi. Vertice tra comune, negozianti e residenti necessario un nuovo piano della sosta. Le attività storiche, interventi immediati o chiuderemo. L'ostacolo dei decor e poi, nelle due notizie centrali, Messina Denaro malato di Covid dal momento dell'ingresso in cella. Invece a Pescara, in seguimento e sparatoria nel Lazio, in Manette, Rom, residente a Pescara. Quindi la notizia di fuori regione, però riguarda appunto un residente nella provincia pescarese. E ancora prospettiva, ad ortona il lavoro che c'è, l'Academy forma esperti di ferrovie, mentre la fotonotizia riguarda Pescara e la lotta al degrado. Le nuove case a Rancitelli ospiteranno anche i militari. E appunto, vediamo l'immagine, il ferro di cavallo di Pescara. Ancora a Teramo, violenza sulla figlia e tre amichette a processo 58enne. Tutte hanno denunciato abusi per l'uomo scatta, duplice procedimento. All'Aquila invece foto di minorenni nel telefonino, è indagato un ragazzo, mentre a Pescara, troppi cavalli, il sindaco Masci impone le targhe alle bighe. Le carrozze dovranno avere anche dispositivi di stop, luci di posizione e freni in regola con il codice stradale. E poi nel taglio alto, chiudiamo con la prima pagina del messaggero Abruzzo, Chieti, Alessia, la prof star del web, le lezioni virali diventano libri. Ad ortona, crisi in municipio, il sindaco Castiglione revoca tutta la giunta. E poi si chiude con la serie C, con il calcio che riguarda Pescara. Adesso si cambia, tornano Squizzato e Tunjov. Questa è la prima pagina del quotidiano Il Messaggero, edizione Abruzzo. Ci spostiamo allora invece a vedere quelle che sono le prime pagine del quotidiano Il Centro, a partire dall'edizione regionale, l'edizione di Pescara. Droga, svelati gli affari di Rancitelli. E questo è il titolo di Apertura, gli spacciatori intercettati per fare soldi devi vendere giorno e notte. E ancora poi la fotonotizia che è dedicata a libri. La regione stanza infatti 4,8 milioni chi ha diritto agli aiuti. Libri gratuiti a 17.810 studenti. Ecco i fondi per i comuni. E c'è appunto l'immagine che ritrae un ragazzo con i libri. In quanto si tratta di questo nella notizia, scelta come immagine centrale. E poi invece a Torrevecchia, Teatina. Tre anni e tre mesi e un 52enne. Botte in famiglia. Il mio patrino è come Hitler. Cuoco arrestato. Pescara verso le elezioni. Corsa a sindaco di Pettinari. Ecco i miei progetti. E poi sit in per la Palestina. Attenzione in piazza. Sempre a Pescara. Manifestazione in centro. Interviene la Digos. Tre minori finiscono in questura. Nel taglio basso invece olio pescarese, stagione d'oro. In controtendenza con il resto d'Abruzzo. I produttori, una delle migliori annate degli ultimi dieci anni. E ancora sempre da Pescara. Concorso in finanza. Domande entro domani. Mentre a Montesilvano, farmacista, muore a 48 anni. Oggi l'addio. E poi di spalla non abbiamo visto l'articolo che riguarda il calcio di Serie C. Caccia al riscatto. Il Pescara verso Lucca. Zeman pensa al turnover. E nel taglio alto invece si parla di pensioni. In 31 mila scelgono in un anno di lasciare il lavoro. Il nuovo rapporto IMS che riguarda la regione abruzzese. Per quanto riguarda i trasporti, invece, occupazione. Il corso di tua. Per imparare a guidare i treni. Questa è la prima pagina del quotidiano Il Centro. Edizione Pescara. Ci spostiamo allora all'edizione che riguarda Chieti, Lanciano e Vasto. In questo caso il titolo di apertura è dedicato a teatro e servizi. Si indaga l'anticorruzione. Comune di Chieti. Lanac punta ai riflettori sulla proroga alla società partecipata. Nel taglio basso invece Francavilla. I fondi della regione. C'è il sì alla pista ciclopedonale. D'Ortona, Castiglione a zero alla giunta. Il sindaco. Ci sono nuovi equilibri. E si dimette il presidente del consiglio comunale. A Tessa il colosso dei furgoni commerciali Stellantis. Altri due turni extra. Domani e domenica si lavora nello stabilimento del Ducato. Il caso Vastese Calcio Salvatorelli. I debiti sono 630 mila euro. Questo è anche un caso che abbiamo trattato all'interno dei nostri notiziari sportivi. Per quanto riguarda invece Lanciano. Si vendica dell'ex amante con minacce e pedinamenti. Questa è la prima pagina che riguarda Chieti. Allora andiamo a vedere il centro edizione. L'Aquila Vezzano sul Mona. Piazza della Movida. Apre il cantiere. L'Aquila via la nuova riqualificazione in centro. Interventi alla Torre Civica. Anche qui la fotonotizia è la stessa che abbiamo ritrovato nelle altre edizioni. Mentre nella parte bassa Malora ad Avezzano. Paura per Greco. Il giudice finisce in rianimazione. Spaccio e violenza sempre ad Avezzano. Scatta l'offensiva. I carabinieri circondano i quartieri a rischio. Denunce, sequestri di armi ed oro. Mentre nella parte bassa la serie Netflix. Il gran sasso set della saga di Artù. L'Abruzzo e il cinema. Mentre negli ultimi due trafiletti. Lo studio ASL scommesse e uso di droga. Case in crescita all'Aquila. Sanità sul Mona. Via Lamianto. Da inizio 2024. Gli altri lavori per l'ospedale. Ci spostiamo infine allora nell'edizione che non abbiamo ancora consultato. Quella a Terramana. Che apre con la notizia che avevamo già letto anche sulla prima pagina del quotidiano. Il messaggero Abruzzo. Abusi sessuali sulla figlia e tre amiche. A Terramo. Papà di 58 anni. Imputato in due processi. Le ragazze erano minorenni. Terramo. Ancora la sanità. Nuovo ospedale. Scontro aperto. Con altre accuse. Sui fondi. In più. E appunto nell'immagine. L'ospedale Mazzini di Terramo. Rocca Santa Maria. Lì invece si perde al ceppo. Fungaiolo. Trovato dopo ore di paura. E poi nell'articolo di spalla. Il calcio di serie C. In questo caso si parla del Pineto. Il caso. Il Pineto lascia l'Adriatico. Noi al Mariani. Il 19 novembre. Nell'immagine. Il tecnico della formazione bianco-azzurra. Daniele Amaolo. E poi nell'ultima parte della prima pagina del quotidiano. Il centro edizione. Terramo. Condannati finti boss della Magliana. Sei anni ciascuno e due terramani accusati di estorsioni e minacce di morte. Mentre a Giulianova. Vigili urbani. Arrivano le armi. Gli interventi per la sicurezza. A fine mese ci sarà la consegna di dieci pistole agli agenti. A Roseto appartamenti al posto dell'hotel. E scontro. Mentre a Corropoli. Ancora la crisi Johnson. C'è il corteo con i sindacati e i lavoratori. Prima di spostarci a consultare l'interno. Ciò che c'è all'interno del quotidiano. Il messaggero edizione Abruzzo. Andiamo a vedere cosa si dice sul web. Sempre per quanto riguarda la nostra regione. Partendo da Abruzzo Web. Che apre con il Medio Oriente. Pacifisti si preparano. Il 27 ottobre. La mobilitazione. Agricoltura. Apposizioni operatori in ginocchio. In prudente. Rilievi strumentali. E su questa notizia noi andiamo ad approfondire con il nostro servizio. Il servizio di Lino Nazionale. Abbiamo chiesto un consiglio regionale straordinario dove si parla solo dell'agricoltura, solo dei problemi ma soprattutto delle possibili soluzioni. Chiara la richiesta di Dino Pepe, consigliere regionale del PD e di tutte le forze di opposizione in consiglio regionale. Una seduta straordinaria perché il tema dell'agricoltura legato al maltempo, alla siccità è molto serio. I danni riguardano la filiera vitivinicola che ha perso oltre il 60% della produzione con perdite di oltre 60 milioni di euro. Ma anche nella Marsica la situazione è pesante. C'è bisogno di investimenti particolari per quanto riguarda innanzitutto il ricambio generazionale. E quindi stimolare ulteriormente i giovani ad indaprendere attività nel campo agricolo. E poi ovviamente l'innovazione, la ricerca, sostenere con forza il biologico e il biodinamico. E in più l'aggregazione è fondamentale. Noi dobbiamo sostenere le aggregazioni possibili in ogni settore dell'agricoltura. Poiché attraverso l'aggregazione si riesce a fare ricerca ma si riesce soprattutto ad essere sempre più competitivi sui mercati nazionali e internazionali. Serve dunque un sostegno importante alle cooperative, alle società, alle piccole imprese. Serve un incontro con l'Associazione delle Banche per la sospensione dei mutui. Ma servono anche finanziamenti e risposte dall'organo politico regionale. C'è la necessità e soprattutto l'esigenza da parte delle imprese, delle cooperative, delle piccole aziende agricole che hanno difficoltà finanziarie importanti. E quindi una sospensione dei mutui da questo punto di vista. Abbiamo visto un accordo con l'ABI, l'attivazione dello stato di calamità per questa regione, la deroga per quanto riguarda il decreto 102 e quindi la copertura anche dei danni al di fuori dell'assicurazione competente da questo punto di vista. Continuiamo ad approfondire il quotidiano del messaggero edizione Abruzzo. Abbiamo visto la prima pagina, l'abbiamo paragonata con le prime pagine locali del quotidiano Il Centro. Ci spostiamo nella seconda pagina dell'edizione Abruzzo. Super ospedali in tre anni, ecco come saranno scelti. Si parla della riforma della sanità. Sono ufficiali indicatori e tempistiche per arrivare a due DEA di secondo livello. La nuova rete andrà presto in consiglio, punti nascita, fusione, Avezzano, Sulmona. Entro 36 mesi dovrà essere completato il trasferimento delle alte specializzazioni. Nella parte bassa invece il messaggero ci parla dell'Inps più flusso finanziario, ma i precari frenano il dato. Il rendiconto prospetta un aumento di imprese e lavoratori nella regione. Per quanto riguarda Pescara, il titolo di apertura riguarda la droga, la maxi-operazione condotta dai carabinieri Arrancitelli, il giorno degli interrogatori. Quattro dei dodici in manette saranno sentiti dal giudice Marino. Gli avvocati De Marco e Giannini ne anticipano l'esito. Materiale probatorio complesso, inopportuno rispondere. E poi la manifestazione in 200 al sitin per la pace in Palestina, Digos in azione. E poi nel taglio basso, Masci, anche alle forze dell'ordine, gli alloggi al posto del ferro di cavallo. L'ipotesi è sul tavolo di sindaco e prefetto. L'antanzio dell'Ater, una cabina Enel da spostare, blocca la demolizione. Questo ci arriva dalla prima pagina di Pescara. Ci spostiamo nella seconda pagina della cronaca pescarese. Pescara si è bloccato a colpi di pistola sul litorale laziale, drammatico inseguimento dopo il furto di un furgone. Poi l'arresto a Civitavecchia. L'arrestato a 46 anni, indagini in corso sui suoi movimenti. Feriti quattro carabinieri. Nasconde Ashish negli slip. Arrestato polizia, controlli disposti dal questore. E ancora, poi nella parte bassa, invece, si scava sul traffico di droga in mano ai nigeriani. Rinviata ieri la prima udienza, i 13 imputati farebbero parte di un sodalizio scoperto dal DDA. Ancora, formula anti-odio. Fater con i giovani per riqualificare il parco Montessori, la scuola media Vittoria Colonna, nel progetto ACE contro malvagità scritte sui muri e discriminazioni. Scade domani il concorso in finanza, caputo, questo ci arriva appunto dal colonnello a Carriere. E poi, Pescara metropolitana, rifiuti previsto per metà novembre, l'inizio della differenziata a Porta Nuova. Valeria Toppetti, nel CDA di Ambiente, indica una data per l'avvio del servizio. Procede nel frattempo la distribuzione del kit. Maratona d'Annunziana, si parla di eventi in 2000 alla partenza. Torna sabato e domenica l'iniziativa, l'impegno solidale dell'associazione, l'elenco delle strade chiuse al traffico, potete trovarlo all'interno appunto del quotidiano Il Messaggero. Ancora, poi lo spettacolo, il teatro di Beckett, giorni felici di scena al Florian. Mentre nella parte bassa ancora il cartellone, l'isola dei pirati al teatro Cordova, apre la rassegna del TSA per i giovani. Classica al massimo con il trio Pantum, il concerto. Ci spostiamo all'Aquila, invece, residenti e commercianti, più parcheggi e accessi. Incontro con vice sindaco e assessori, abbiamo chiesto soluzioni concrete. L'impegno di Daniele, l'obiettivo è rendere più vivibili questi luoghi. Ancora Piazza Chiarino, oggi partono i lavori, i privati potranno entrare da via Pavese. Il cantiere dovrebbe terminare entro aprile del prossimo anno. Interventi finanziati per 700 mila euro. E poi l'approfondimento, arte e cultura in regione, tolca e dibattiti al Maxi. Oggi comincia a Glocal Art l'iniziativa in cinque appuntamenti al museo. Gianni Letta, invece, a Onna per ricordare la sorella della cerimonia, che ci arriva sempre alla cronaca dell'Aquila. Nella seconda pagina aquilana, nel cellulare del giovane, fotopedopornografiche. Un 19enne scoperto dalla postale con immagini di minori su PC e telefono. Il ragazzo adesso rischia il processo, udienza filtro fissata ad inizio novembre. Maxi furto e danni di un'azienda, portati via 10 quintali di rame il corpo. E poi la gara a Terra Aquilana, riconosciuta come stazione appaltante. L'evento, domani in via Castello, le poesie di Derisio. Mentre scherza col cuoco, la rubrica, ecco quali sono le differenze tra alimentazione e nutrizione. Ci spostiamo nella pagina che riguarda invece Avezzano e Sulmona. Impianti sportivi cittadini tra incompiute e degrado. Palawinnel ripristino ancora al palo. Scarso controllo nel vicino campo da basket. In tutta l'area l'avviabilità è congestionata, sui parchi gioco invece si procede, spediti. E poi appunto l'immagine. E ancora dal sociale, 80 detenuti costruiranno i mobili per arredare le cerre delle carceri italiane. Ancora la politica ad Avezzano. Giovagnorio accusa ancora il centrodestra regionale. Mentre a Sulmona, esperti mondiali a confronto suo video. Ad Avezzano invece grande paura, malore per Griecol, giudice ricoverato. E la sentenza invece di Roccaraso, infortunio sulla neve, due condanne. Queste le notizie principali della cronaca che riguarda Avezzano e Sulmona. Noi ci spostiamo a Chieti, dove il titolo di apertura riguarda invece riscossione data a teate servizi. Anac serviva, gara d'appalto. L'anticorruzione richiama il comune, violazione della disciplina dei contratti. Entro dieci giorni l'ente dovrà presentare una relazione sui provvedimenti adottati. E poi il personaggio, vediamo di spalla un articolo dedicato ad Alessia Giandomenico, la docente star, che crea video didattici. Nella parte centrale invece le spine dell'amministrazione. Assessorato Chiavaroli chiede garanzie e lancia Iezi. Nella taglio basso, processo Terredoro, cinque condanne. La sentenza appunto si chiude con cinque condanne. Il processo nato dall'inchiesta ribattezzata a Terredoro per traffico illecito di rifiuti. Questo è quanto ci arriva sempre dalla pagina che riguarda appunto Chieti. E poi i pagamenti da oggi, libri di testo, i mandati in ragioneria. Passiamo alla cronaca che riguarda invece Lanciano, Vasto e Ortona, sempre in provincia di Chieti. Asfalti al via lavori per 800 mila euro. Cantieri in centro e nelle periferie per ripristinare tutti i danni provocati per posizionare la fibra ottica. L'amministrazione intanto ha diffidato le ditte esecutrici. L'ira dell'assessore Paolucci in certe zone. Situazioni penose. A Lanciano Stolking in rosa dopo Tresca finita è stata condannata. Mentre a D'Ortona Castiglione per la seconda volta a zera l'aggiunta. Il sindaco ha firmato il decreto di revoca necessario per riformulare gli equilibri politici. A San Salvo invece settimana della sicurezza sul lavoro per il contrasto alla violenza di genere. Ad Atessa invece Stellantis sito strategico per i veicoli commerciali. Mentre a Lanciano, al Palafiera, via Progress, chi cerca e chi offre posti. Questo ci arriva dalla cronaca di Lanciano, Vasto e Ortona. Ci spostiamo allora alla prima pagina di Teramo che apre con la notizia degli abusi sulla figlia e sulle tre amichette. Per l'uomo doppio processo. Il 58enne già in pensione dopo un infortunio sul lavoro avrebbe toccato le ragazzine minorenni. Lui respinge le accuse ma le giovani hanno confermato con fermezza i reati. Vediamo appunto gli avvocati che si occupano di questa vicenda. I racconti shock. Rocca Santa Maria, cercatore di funghi disperso. Ricerche, poi sappiamo che è stato ritrovato. Controlli sull'arma, arresti e denunce lungo la costa. La pattuglia dei carabinieri appunto nell'immagine. Mentre nel taglio basso si parla di nuovo ospedale. Teramo senza fondi, la scelta della regione e su altri presidi. Andrea Core, che vediamo nell'immagine di Insieme Possiamo, attacca. Caduta la maschera, duro anche di Nopepe, provincia declassata. Ci spostiamo allora sulla cronaca che riguarda la costa, che riguarda Giulianova, Roseto e la Val Vibrata. Giulianova, isola pedonale e parcheggi. In comune stanno cercando una soluzione al problema sosta che frena commercio e sviluppo del turismo. Trovate due aree e poi l'assessore Di Carlo, che vediamo nell'immagine, pensa a un multipiano in piazza Marà. In parte sotterraneo, ma ci sono anche proposte di privati. Per quanto riguarda i servizi alle poste, per avere i certificati dell'Inps e ancora comunali invece. Qui ci troviamo ancora Giulianova, accordo PD, articolo 1. Il cittadino governante, vediamo Franco Arboretti in foto, vetti su di noi per la scelta del candidato sindaco. E nella parte bassa, Francesca Martellini morì a 24 anni, via al processo con due amici imputati a Roseto. Uno avrebbe ceduto il metadone poi iniettato in vena, l'altra invece accusata di omissione di soccorso. E ancora, notizie che ci arrivano sempre dalla costa, improvviso malore in casa, deceduta la psicologa 48enne Elisabetta Di Marco. Oggi l'addio a Pineto, la professionista che lavorava nelle Marche. Andiamo con lo sport, le ultime due pagine del quotidiano Il Messaggero edizione Abruzzo. La prima pagina è dedicata, sempre la Serie C, al Pescara, Squizzato e Tunjov in regia. Con i ritorni, rimodellato il reparto mediano, che non è riuscito a dare ritmo alla squadra. Ora due gare ravvicinate contro squadre che lasciano giocare Lucchese e Torres. Zeman cambia il centrocampo per il match di domenica e vediamo appunto l'immagine. Mentre per quanto riguarda Ivan Mesic, lo stacanovista dei Biancazzurri. E poi il turnover non lo riguarda insieme a Pizzari e il giocatore che non ha saltato neppure una partita. L'approfondimento appunto legato al 22enne Slovacco del Pescara. Ci spostiamo in Serie B interregionale di basket. Area di derby, domenica Teramo Spicchi, amatori Pescara. Rosetto 2020 invece ospita la capolista Loreto. E ancora chiudiamo con la Serie D, Chieti, sale da febbre e da derby. Il centrocampista d'Ancora, l'Avezzano è una buona squadra. Domenica ci saranno delle insidie e dobbiamo portare a casa punti. Attesi al De Marsi ben 450 tifosi neroverdi per supportare la capolista che punta in alto avanti su questa strada. E quindi ovviamente la lunga corsa verso il ritorno alla Serie C passa attraverso questa tappa. Si parla ovviamente del Chieti. E ancora Marsi Cani agguerriti, gara che vale doppio. In Serie D si fa in questo caso invece l'approfondimento che riguarda l'Avezzano. Atteso il pubblico delle grandi occasioni, Daniele Forte daremo il massimo per vincere. E con questa notizia si chiude la rassegna stampa di venerdì 20 ottobre. Vi ricordo l'appuntamento con le nostre dirette torna alle 9 con una nuova puntata di Accolazione. Avremo ospite Italia Calabrese, parleremo del Soroptimist Teramo e di tanti altri argomenti, anche di attualità. E allora a me non rimane che augurarvi una buona giornata con la programmazione di Super J. Grazie a tutti.